che ti riprendo buongiorno ciao babbo buon natale buon natale Dario che fai? oggi è il 25 dicembre come si può notare perchè se è natale è il 25 dicembre imbossanti andiamo sempre per il meglio adesso si corre ci sardiamo si volate no Dario non esagerare ti rimane in terra mi casco una gamba ciao ciao ciao